Ciao a tutti, sono Nelly Meraviglia e... Ciao! Ciao! Tutta YouTube lo sta facendo, anche io voglio fare la Coca Cola com'osa! Ma ovviamente ne la faremo a rosa! Non è vero! Viola! Adesso vedrete come lo faremo! Perché abbiamo visto il tutorial di uno che diceva che 4 cucchiai d'acqua e 2 di fogli. Quindi noi quanti fogli abbiamo? 5. Questo per 2, in più un mezzo, quindi è 4 cucchiai più altri, 4 cucchiai più 2 cucchiai. I fogli sono due fasi più due fogli più un foglio. 10 cucchiai. E 5 fogli. Sì, Livia, 5 fogli e 10 cucchiai. Ma poteva anche non fare tutto il tonno che sta rossando tutte queste operazioni, bastava fare così. Eh, lo sta a fare! Eh sì, però guarda quanti quanti abbiamo fatto! Dobbiamo sciogliere i fogli in acqua fredda per 15 minuti. Quanti ne ho dato? 10. 1, 2, 3... Livia, pizzi, vieni! Se no poi si fuori. E la faccia con me. Riva anche le fasi! Sì, 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 sì. Se ne mettevo tipo un po' di meno, un po' di meno, poi sono tipo 8, no? Allora... Senti, allora mettiamole mezzo in più calcolando le crepature. 1, 2, 3, 4, 5, va bene? Guarda, sono... 11. Sì, 11. 11. E ne abbiamo fatto 11 perché un po' erano crepati. Non potevamo spazzuccare questo. Cioè, quello ha detto di dividere in due 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 di più. Sì. Mi è partita una cosa nel colo. Questa cosa mi è spazzata come Aro. Ecco perché... Che paura. Quello ha detto che è tutta una crepatura. Ma è prima negli occhi. È una mannale di seno. Come ho fatto le tracci? Questa cosa è un pericolo. Non poi non basta mai. Ah, dobbiamo schiacciare con un cucchiaio. Tutto se volete capire, questa è un'arma letale. Scioglie la gelatina per 15 minuti. Le lasciamo in là. Ma guardate poi che casino sta a fare. Ma io dico. Ma si può fare così. Guarda, è una piccola splozza. Ma io ti vedo. Non sembra muco. Noi abbiamo messo 5 fogli di galla di pesce. E 10 cucchiai d'acqua. Ma faremo anche delle mini gelatine in questo cosa. Ma diamo ancora 4 minuti. Oddio. Oddio. Ma poi lo faremo dentro la cazzosa perché siamo più alternative. E perché lo vogliamo fare comunque viola. Quindi ci serviamo una base chiara. Si mette questo qua. E svuotare. Cogliere la cosa sul fuoco al fuoco basso. Levare l'etichetta di sta merda. E fare tipo tutto un buco perché così abbiamo come prima dopo. Fare un buco così e poi richiuderlo con lo scotch. Cioè, è come metterci un po' di gelato. Io metto altro scotch per assicurarmi. Quindi lasciamo così le misure, direi. No? Tanto al massimo non vengono tutti quelli da vedere la cazzola. Eh ma buta questo? Si. Questa che dì? Forse un altro di questo ce lo metto perché non è proprio un cerro. Bisogna riempirlo di quanto è qua. Allora noi lo faremo via. Lo faremo il covarante blu e lo sciroppo di amarena. Sì, di blu così va bene, direi. Guarda che bello, che bello. Ma è meno. Ma è una merda. Sì, perché io ho tutte le casei? Provi a fare la sala in fiesta. E quello è fissile, eccolo. Ma come capisci? Il bratto alcolico. Ma è vero, dai! Questo è il risultato? No, si è abbassato. Come hai fatto ad abbassarsi? Livia, se si abbassa c'è una sola risposta. Perché l'ho aperta. Sollevala. Ma c'è il mio telefono. Livia non è tappata. È liscia. Ah, sto usciando. Dov'è che è petto, Livia? Tu l'hai vista. E allora aspetta, lascia una qui. Abbiamo riparato il danno. L'abbiamo rifatto. Direi di mettere in freezer. Tanto è mai il tempo. Allora, questa è la bozzia. Adesso la apriamo, sperando che sia solita. Una apriamo, una coca cola. Sarei queste cose del prima mattina? Mentre Maglio mi lecca le gambe. Ma perché? Ma io perché? Allora, noi l'abbiamo lasciato tutta la notte per essere sicuri. Perché qua la sicurezza non è mai troppa. Dai, più o meno ti regge. Va, Livia. È orrenda, ma alla fine se ci pensi ci abbiamo messo dentro cose normali. Questa è la nostra gelatina. Facciamola mangiare su adesso. Adesso, vediamo se funziona come butino. Che palle! Non ci arriva in niente! Non è giusto! Vabbè, se io non li seguirò fin il tutorial. Ti farete male? Cosa abbiamo fatto di sbagliato rispetto agli altri? Eh? Abbiamo messo poca cola. E mi piace. Questa è la nostra bottiglia di gelatina. Ma vediamo quelli piccoli se ci sono venuti. Beh, sì. Sì, è la forma di una bottiglia, no? Che ne pensate? Ma perché la gelatina non è niente? Quindi niente, questo è tutto. Ciao! Ciao!